Con che cosa registro il mio audio? Gli apparecchi che utilizzo sono differenti, principalmente utilizzo uno shotgun della Shure che collego alla slitta della Sony Alpha 6300 e 6500. A me piace veramente, veramente tanto. È un prodotto che utilizzo molto spesso quando ho bisogno di recuperare suoni, ma quando invece ho necessità di avere un suono pulito per interviste o quant'altro, inizialmente utilizzavo un microfono Lavalier da 12-16 euro, una cosa abbastanza economica che avevo trovato online e che si collegava direttamente allo smartphone. Ve lo consiglio, qui sotto in descrizione trovate il link anche per quel prodotto. Mentre oggi sto utilizzando quello che vedete qui al collo, sempre una pulce, in questo caso di Beshoi, che è questa marca qui, è un radiomicrofono, ovvero questo microfono è il trasmettitore da cui parte la voce e arriva al ricevente, che è collegata tramite il jack audio alla Sony che in questo momento sta registrando. Può lavorare su più canali, lavora con batterie AA, quindi delle semplicissime stilo, io utilizzo delle ricaricabili che compro su Amazon praticamente quotidianamente, anche quello se lo volete andare ad acquistare è qui sotto in descrizione. Questo l'avevo trovato in offerta qualche settimana fa e l'avevo trovato a meno di 100 euro, si parla intorno ai 70-80 euro. Adesso non è più in offerta, l'avevo messo sul mio canale Telegram. Se avete piacere di seguirmi anche per le offerte che vado a scovare in giro per la rete, sappiate che sempre qui sotto c'è il mio canale Telegram, dove quotidianamente metto quello che secondo me potrebbe essere interessante per voi o che magari compro anche per me, come ad esempio questo microfono che sto ancora testando, ma che credo mi darà delle grosse soddisfazioni, soprattutto nell'ambito intervista. In questo caso, quindi di recensioni, vedete l'utilità anche della possibilità di potermi spostare senza nessun tipo di problema dalla telecamera, ma l'audio è attaccato a me, quindi è un vantaggio notevole perché non cambia mai. Ce n'era un altro di molto bellino della Rode, che sono i mic, quelli quadrati, non mi ricordo il nome, se mi viene in mente, magari ve lo scrivo qui, però costano 209 euro ancora su Amazon. Magari vi metto il link pure di quelli qua in descrizione. Bene, la recensione audio ovviamente si basa anche sulla distanza, abbiamo detto che sono a circa 70 metri, quindi io adesso mi allontano e faccio una passeggiata per i campi qui attorno. Non credo che sarò più in quadro tra un po', però la cosa importante non è tanto il fatto che io sia in quadro, quanto che il microfono continui a farsi vedere che funzioni e che sia collegato. Adesso saremo a circa una quindicina di metri dalla telecamera, magari mi sposto anche dietro a degli ostacoli, mi sposto dietro a un albero e piano piano mi sposto anche dietro alla casetta di legno. Vediamo se si continua a sentire l'audio, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Ho superato la casetta di legno, quindi dovrebbe essere di nuovo libero. Mi sto inoltrando verso i campi, sarò ormai a 20-25 metri dal ricevitore attaccato alla telecamera. Proseguo ancora un po', poi mi fermerò perché tanto non ha più senso avere una distanza di questo genere, siamo intorno, secondo me, ai 40 metri ormai, 40-50 metri al massimo. Sto scendendo giù per il campo, mi trovo a una distanza ancora maggiore adesso. Continuo a vedere, sono sempre in vista con il microfono, quindi non ho tra ricevente e tra ricevente, però intanto ho il ricevente e ora sono arrivato. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, non so se si sa, quindi non so cosa atterrò. Ora provo, in questo momento ora vado dietro a degli... ...perato a 2 metri. ...sono ritornato, sono quasi arrivato. Forse avrei messo qualche informazione maggiore sulle qualità della ricezione e della trasmissione del segnale. Sono soddisfatto del prodotto, anche perché insomma il prezzo è veramente basso ragazzi, per un prodotto che può essere utilizzato anche professionalmente. E a me non resta che salutarvi, spero che anche questo video test vi sia piaciuto e che possa esservi stato utile magari per la valutazione di un acquisto di un prodotto come questo Beshoi. E a me non resta che salutarvi, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccate mi piace su questo video, accendete la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le uscite dei prossimi video e noi ci vediamo come al solito la prossima volta con il prossimo video. Martedì in diretta, mercoledì per le recensioni, giovedì per l'appuntamento con Da Vinci Resolve. Ciao!